Ciao a tutti, benvenuti a Voce Nostri Rivali, ho il piacere di ritrovare, non so più per quale volta, quante volte, l'amico, ormai lo chiamo l'amico, Peppone per Napoli e Atalanta. Ciao Peppe! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie come sempre per aver accettato il mio invito, non ti faccio presentare stavolta perché con me ti conoscono tutti, comunque lo dico io, lascerò in descrizione il link per trovare Peppe ovunque, è un uomo ovunque, lo trovate dappertutto, Instagram, Twitch, TikTok, c'è sì? TikTok, ovunque, ovunque, è l'uomo ovunque, lo trovate ovunque, io lascerò qua di sotto sicuramente quanto meno YouTube se non anche la piattaforma viola così siete liberi di andarlo a trovare ovunque qualora ancora non lo seguiate, mi raccomando seguitelo perché è simpatico l'amico Peppe. Allora Peppe, questo Napoli ha tre facce direi, non più due, perché con tre allenatori sono tre facce. Tre facce che solo la terza è quella che ha una faccia un po' più bella, mi viene da dire. I due precedenti, insomma, ci hanno fatto un po' con Tossoca, nel senso che uno, Garciano, ha saputo legare e l'altro non ha saputo dare un'idea tattica buona e moderna. Io mi sento di dirti che dei tre è quello che mi piace di più, ma non perché lo stanno dicendo i risultati, ma perché comunque avendo lavorato con due allenatori molto importanti per la piazza, secondo me comunque sa un po' sia come muoversi sia l'ambiente. E quindi mi sento di chiederti, secondo te Calzona, Calzona o Calzona, perché c'è chi gli piace questo tono francese, soprattutto io che ho l'amorosa mezzo, però Calzona, perché tanto si chiama così, non ha nessunissima speranza di rimanere anche qualora dovesse andare strabene da qui alla fine del campionato? Dipende tanto dal contratto con la Lega della Slovacchia, però secondo me non rimane, secondo me D'Aurentis ha in mente un solo allenatore o altri allenatori per ripartire da zero, quindi penso che Calzona stesso lui ha detto e ribadito, sì D'Aurentis mi ha dato un contratto, abbiamo un accordo di questi sei mesi, che poi non erano manco sei mesi, erano tre mesi, Sì esatto. E poi andiamo a vedere, ci incontriamo, ma secondo me si dedicherà solo alla Slovacchia. Ah ok, ok, no te lo chiedevo perché comunque sta facendo abbastanza bene, magari sai, siccome il vostro presidente è famoso per voler risparmiare, magari trovo un escamotage per te, che l'ho mandato già in crisi. No, ma il discorso è che D'Aurentis adesso, quest'estate, non deve proprio pensare a risparmiare, perché ormai lui ha fatto la frittata l'estate scorsa, e mo' le frittate non si devono fare più. Purtroppo non ha tenuto conto che tu sei rimasto nello stesso livello, prendendo tre giocatori, più quelli di gennaio, soprattutto da Endonger, che è totalmente inutile, è stato preso tanto per. Esatto. Eh, tu devi fare acquisti importanti, mo' quest'estate. Non nomoni, ma giocatori funzionali. È utile, esatto. È utile, perché se andiamo a vedere i giocatori che abbiamo preso tra estate e gennaio, l'unico funzionale è in gong, basta. Dendonger è un palo, Cajust è un centrocampista da centrocampo a due, Lindstrom è un trequartista, quindi non ne manca un'esterno, e da Rendes presi il biglietto. Signori! È un esterno adesso, guardate i numeri! Ok. Poche povere soppine estate. Cajust, l'industria... Nathan, Nathan come sostituto di Kim. Nathan. Che poi per me Nathan può essere buono, ma deve essere affiancato. Io, io, io sono pazzo, ma io Nathan lo vedo come Coulibaly, solo che Coulibaly aveva il biol. Nathan ten raccomani, che sì. Racmani si è confermato al dia che ultimamente sta giocando bene. Sta facendo bene, sì, è vero, è vero. Sta facendo bene, ma non può mai essere paragonata dal biol. Cioè, Racmani, prima di questo periodo, si vedeva che senza Kim e Coulibaly fa fatica, perché Racmani, oltre che a fare un lavoro difensivo, deve anche fare un lavoro di gestione, di padroneggiare la difesa, di essere un utile difensivo, cosa che non è. E quindi, in estate, urge prendere due difensori. Bravo perché mi hai già risposto sul mercato cosa serve, ma un nome di un allenatore, perché qua io non ci capisco più niente, perché ci sono tre nomi, stanno girando tutta Italia, però finiti quei tre, c'è un problema, perché uno lo mettono in tre, quattro, perché io non faccio il nome, perché tanto ho già capito di chi parlo. Un altro pure, e l'altro anche, quindi sono curioso di sapere se con te chi arriva, perché... Al di là del fatto che quest'estate ci sarà... No, al di là del fatto che quest'estate ci sarà un botto di cambio di panchina per tutti. Esatto, esatto, è quello che ti dico. E i nomi grossi sono i tre. Il Milan, forse solo Inter-Atalanta rimangono con gli stessi allenatori. Guarda, sul Milan in stigione ci sta leggendo che Piole dovrebbe rimanere, però sai, vai a capire tu. No, no, dopo sei anni il ciclo finisce, secondo me. Non lo so. Ma come prossimo allenatore Napoli, D'Aurenti sulle Conte. Questo è poco ma sicuro D'Aurenti sulle Conte. Per ripartire completamente a bomba, e se prendi Conte vuol dire che ti assumi le tue responsabilità e fai un mercato per Conte, perché prendere Conte e fare un mercato a ribasso... Cioè, vivo le vibes di Ancelotti, vivo le vibes di Ancelotti. E non serve un cacchio. Poi, un nome che si sta parlando e a me non piace, è italiano. Ah, eccolo, eccolo, bravo, bravo, bravo. Io sono un'esplosione del dentista e quindi mi ero dimenticato. È italiano la voce. No, italiano ha pure una bella filosofia, ok? Ha una buona filosofia, però difensivamente c'è una squadra troppo larga. O troppo larga o troppo alta, difensivamente. Infatti subisce troppi buchi centrali a maniera incredibile. E il secondo gol con la Roma è un imbarazzo totale. Gli è Biraghi che non si sa. Goal di Huizè, no? Chi era? Guancini? No, spesso. Assiste di Indicà? Vabbè, quello che ha segnato? Vabbè, io mi ricordo chi ha fatto il buco che è Biraghi, però... Quei due stavano soli. Stavano soli. Indicà e quell'altro. Stavano soli. Cioè, è un imbarazzo... E poi, in attacco, sì, buone trame, però quando la Fiorentina sta in svantaggio, cioè, palla sui esterni e basta. Non c'è un'imbucata centrale. Sempre cross in mezzo, cross in mezzo, cross in mezzo, poi lasciando stare che gli attaccanti della Fiorentina sono quelli che su... Però, c'è un po' di inventiva. Sì, ma... A me mi intriga Palladino, però, devo essere sincero. Che Palladino, per una squadra modesta che ha, che ha tutto il rispetto, Caldirola in difesa, Gagliardini a centrocampo, Chi è? Diuric a Pigliate Monza in attacco. Sì, poi c'è Dani Motta, che sembra un fenomeno, ma è un'annesto fenomeno, insomma. Ma sta a metà classifica! Cioè, a questo punto, prendi Palladino, fai crescere l'allenatore e anche la squadra, perché il Napoli è più forte del Monza. Basta un po' di inventiva, basta un po' di inventiva, un po' di schemi, e arrivi quarto con Palladino, corna facendo. Sì, però sei senza così me, in stoltranno. Io te lo volevo ricordare, è giusto per farti un po' di dolore. Ma guarda, io dal punto di vista dell'attacco, io sono tranquillissimo, perché il Napoli ha dimostrato, da quando è andata in Serie A, che in attacco si muove sempre bene. Ed è paradossale. Cavani, Higuain, Milik, che nonostante ha fatto male, ma i suoi gol li ha fatti. In attacco a Napoli li ha fatti, sì. Cioè, in attacco si è inventato, ma Calzuna ha inventato, Mertens, Vassonueve. Quindi, in attacco non sono preoccupato, io sono preoccupato per la difesa e il centrocampo, perché tu devi rivoluzionare in difesa, soprattutto sulle corsie esterne, centrocampo, poi devi capire pure con quale modulo in Napoli va a giocare, difesa a tre, difesa a quattro. Quindi è un cantiere aperto attualmente in Napoli. Infatti ti dicevo, di italiano in stigioni se ne parla davvero tanto, sono d'accordo con te, perché comunque italiano con la Fiorentina per me non gioca male, assolutamente. Creano tantissimo, ma non concretizzano. Quello è colpa dell'attacco, come hai detto tu. Quello è colpa dell'attacco dei giocatori singoli, questo sì. Zola, una delle delusioni più grandi del fante calcio di MES Italia, ma al di là di quello, appunto si sentiva sto nome di italiano perché Conte pare vicinissimo al Bayern Monaco, quindi probabilmente bisogna chiedere l'Aurenti se si guarda attorno per non arrivare a settembre che non ha l'allenatore. Ecco, insomma, capiamoci. Quindi probabilmente le voci di italiano sono da vedere anche su quel lato lì. Palladino è uno che ho sempre detto che qualora andrà via Gasperini, più o poi andrà anche via, non so quando, ma più o poi andrà via, mi piacerebbe tantissimo averlo. Ecco, è uno di quelli che proprio io ho un sogno nel cuore che è Emery, ma non verrà mai a Bergamo, però ecco. Eh, pure io non voglio Emery. Quello lo vogliono tutti. Un amico vuole Emery da 7-8 anni. No, no, ma anch'io, non è che è da quest'anno, io ho già dai tempi del Villareale, eccetera. E appunto ti dico, Palladino è uno di quelli che mi piace veramente di più, perché sì, parlano tutti di Tiago Motta, per carità, non è scarso assolutamente, per carità, il Bologna è lì, grazie soprattutto a lui, però per me, se vai a paragonare le rose, tutto, Palladino sta facendo molto meglio rispetto a Tiago Motta. Io... Ma io come ordine preferenza, no, ma io come ordine preferenza, Conte, vabbè Conte, che porta mentalità, voglia di vincere, eccetera, eccetera. ce l'ho avuto. Tiago Motta, Tiago Motta a me fa impazzire, ha reso in Bologna, una squadra fortissima, e Palladino terza scelta, italiano quarta, quinta. Poi se dovesse arrivare... Tanto hai avuto Garciate, Mazzarri. Tanto, ho avuto Garciate, ho avuto Mazzarri. Cioè... Però vedi, io su Garciate, l'avevo detto, non sono tutte colpe sue, mi ricordo il video dell'andata, che ne parlamo, e mi sa che ci siamo visti che poi c'era già stato il cambio con Mazzarri, se non erro, mi sembro, non sono sicuro. Io non vengo, se è stato il cambio di Mazzarri, se non erro. Figurati pure io. Io in memoria andiamo poco d'accordo. No, pure io, quindi... Poi ripeto, sono sotto anestesia ragazzi, quindi non fate caso se oggi deliro. E invece come arriva Napoli a questa partita contro di noi? Cosa ti aspetti? Cosa temi dell'Atalanta? Dai, le solite domande, che tanto sono quelle. Le tre partite sono quelle. Cosa mi aspetto di vincere, perché mo' il Napoli ha tutte le finali? tutte, fino a tutte le nuove partite e deve vincere tutte. Ha tre scontri diretti con l'Atalanta, Roma e Bologna in casa. Quindi devi vincere. Penso che ci arriviamo dopo il pareggio con l'Inter con un po' di autostima in più, perché pareggiare a Milano con la capolista, futuri campioni d'Italia, deve dar morale per forza, perché se non ti dà morale quello, allora non meriti proprio ad andare in Champions neanche a lottarci. Il problema è Calzone che arriva, se non mi sbaglio, tre giorni prima della partita, quindi ha poco tempo per prepararla, però alla fine vanno i giocatori in campo, Oseman non si sa se ce la fa, forse sì, forse no. a differenza, mi pare, di Cup Miners e The Cater che sono tutte e due, sì, una bella pausa nazionale. No, io l'unico, grande pausa nazionale che fa più morti, vabbè, fa più morti che belle cose, esatto. Io della Tavanta temo più Cup Miners che degli altri, ed è stata una bella mancanza, sarà, speriamo che sia una bella mancanza, non vuole che Pasalic proprio a doppietta e si sveglia, diventa il nuovo che ne so, però, il nuovo che ne so, è benissimo, il nuovo che ne so, però, la fase di Sardegna a me piace tanto se lo mettono in mezzo, se lo mettono davanti, no, quindi bisogna vedere che cosa è. Sì, tre quartista, tre quartista inserimento. Che piede mette giù Gasperini domenica, no, sabato, dal letto e decide dove metterà. Madonna. Io mi aspetto un'Atalanta che secondo me al campionato non ci pensa più di tanto. Secondo me l'Atalanta pensa per l'Europa League. Io ti direi alla Coppa Italia. Ok, ah, è anche la Coppa Italia. No, ok che l'Europa League al Liverpool, però il Liverpool per me, ok che il Liverpool è il Premier, forte, prima, però l'Atalanta per come gioca per mettere in difficoltà il Liverpool. No, 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 io in Europa non tifo e non gufo le italiane. Anzi, se passa mi fa solo piacere. però secondo me per le armi che utilizza l'Atalanta può mettere in difficoltà il Liverpool. Sperando che con il Napoli si addormenti, però... Guarda, io con il Liverpool non ha... Basta che giochiamo bene, ci impegniamo, poi come viene, viene, non è che mi dispero, sicuramente sulla carta sono favoriti, però occhio, perché a volte, sai, dare l'Atalanta per sfavorita soprattutto in Europa ha portato male, a certe, quindi... vediamo, vediamo, non mi do per sconfitto ancora prima di scendere in campo, quello no. Quindi chi manca al Napoli invece? Nessuno, cioè, quasi nessuno. Mi pare nessuno, mi pare nessuno, mi pare nessuno. Adesso non voglio portarti stile, tranquilli, Non si fa male qualcuno stasera. No, no, tutti integri, o se ne sta facendo ancora il lavoro personalizzato, disqualificati, nessuno, vabbè, erano mazzocchi e in gong che mi pare, gli infidati che però non sono stati, non sono stati ammoniti. In Napoli è tutto, tutto integro. A meno che uno, durante l'allenamento, non gli stacca la caviglia e ciao, però, ho dubito. No, poi noi, noi tra l'altro, io lo dico sempre queste cose perché dopo la gente dice, ah, mami, noi stiamo registrando di martedì, ok? Indi per cui, quando voi lo vedrete, sarà probabilmente giovedì o venerdì, c'è anche quare che gioca questa serie io te la voglio tirare, ripeto, te la volevo tirare. Gioca adesso, esatto, nel momento in cui stia registrato. Quindi occhio, perché anch'io, sai, ieri ho scoperto di tutti questi infortuni, guardi, cazzo, no, no, non te lo sto augurando, assolutamente. Ma per esempio, pure a Milan, Kiers, è fatto male, quindi sta facendo proprio... Sì, no, i nationali stanno facendo una strage, al Verona gli si è rotto Suslow, che è il migliore in assoluto del Verona, questo campionato, cioè, quindi bisogna stare all'occhio. Oggi c'è stata la sentenza, oggi martedì, c'è stata la sentenza, a Cervi Juan Jesus, se vuoi dirmi la tua, io sono tutto orecchi, perché io sto cercando di tenermi fuori da discussioni, ma ti dico già, ancora prima di sapere la tua, che sono con te. Quindi vai, stupiscimi. No, io dico semplicemente che al di là del fatto che le cose di campo le sanno solo a Cervi Juan Jesus. Noi sappiamo solo, la parola di Juan Jesus, e il post, e la parola di Cervi, che dopo totture, fuori dagli uffici, dice, io non sono niente, non ho detto niente. E allora qua la domanda, la domanda nasce spontanea, perché hai detto scusa? Sì. Vabbè, lasciamo, lasciamo. Secondo le motivazioni del giudice, dice, la Cervi l'ha detta quella parola, ma non a sfondo razziale, allora che, cioè, se io, se io dico, quella put***a, sotto la madre, cioè, nel senso, voglio capire, come fa un giudice sportivo, attraverso, le, le visioni, il visionare le immagini, a capire le intenzioni, a sentire le intenzioni, il tono di voce, come fa? Cioè, poi, poi dicono, tanto, la serie A, no, fa sempre pubblicità, keep, keep razzismo out, varie pubblicità, eccetera, poi quando si arriva a succo di agire, che c'è, non si fa niente, si fa le mani, tutto, come si dice a Napoli, si fa tutta la pane e puparola, cioè, se è pane e pomodoro, è pane e, sì, 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 ho capito, e, sì, e pomodori, e, e quindi, oppure tarra luce e vino, ma c'è, italianizziamo la cosa, ok, e, cioè, non capisco, cioè, se non hai punito acerbi, allora devi punire, vai Jesus, sì, 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 questa è la logica, poi io non sono un tipo della marotta league, vergogna, calcio italiano, vergogna, però voglio capire, io però ti dico che se era un altro, squadra secondo me qualcosa di diverso succedeva, io invece qui, qui non sono d'accordo con te, forse, forse sì, non si sa, ma, adesso, con quello che è successo tra Cerbi e Guagliess, voglio capire, che ha visto, il giudice sportivo, che non ha capito l'intenzione, anche i compagni di squadra, nessuno sa niente, nessuno sa niente, anche sta cosa, ieri, no, ma questa decisione, idolatra a Cerbi, lo fanno santo ad Acerbi, e Guagliess è un bugiardo patologico, non mi sembra il tipo, ti dico già, ma poi dopo la partita, lui ha chiesto pure, ha detto pure, no, sono cosa di campo, è un bravo ragazzo, finisce qua, l'ho pure difeso, sì esatto, finisci da lì, cioè sì, no, no, infatti lì dopo, poi dopo gli ha detto, no, io ho detto un'altra cosa, no, non lo so, sicuramente a livello di nazionale, ci fa piacere riavere a Cerbi, questo lo dico, perché la di dietro, no, la di dietro non si ha messi male, forse l'unico reparto, che si ha messi benissimo, il nazionale, però ecco, io la penso come te, però, diversamente dal fatto che, secondo me, se c'era un'altra squadra in mezzo, finiva diversamente, e come ha detto ieri, ieri sempre perché è martedì, ragazzi, se no, me lo scrivo nei commenti, che mi sono pignoli miei, Vinicius, a Real Madrid ha detto, qua, tutte le volte, questi mi infamano, e non gli succede mai niente, e rimangono impuniti, quindi per cui la gente poi si sente, come dice, no, forte, però che può comunque rifarlo, perché tanto non gli fanno niente, ecco io questa, questa è la cosa, però qua è un discorso tra tifosi e giocatore, no, sono d'accordo, sono d'accordo, e sono cose diverse, cioè i tifosi è più facile, tra virgolette, colpirli, perché si sentono, ci stanno le telecamere, individui, daspo e ciao, in campo, che è più grave, per me è più grave, quello che succede, che tu, caci lavori nell'ambiente, nella giornata del razzismo, di stare contro i razzismi, sì, e poi hai dei compagni, una squadra di colore, cioè, anche Turam non l'aveva presa benissimo, te lo dico, per dirne un, non lo so, non lo so, sono sincero, io mi sono tenuto fuori, l'ho detto qui, perché giustamente, essendoci Juan, Juan Jesus in mezzo, avevo piacere sentirla tua, Peppone, quindi, da qui a fine campionato, cosa ci aspettiamo da questo Napoli? secondo me in Champions non ci andiamo, abbiamo perso troppi infiniti punti, troppi, soprattutto, allora, se avessimo vinto con Cagliari e con Torino, quasi quasi, però hai pareggiato, quelli sono, sono quattro punti che, che fanno male in classifica, che se avessi vinto con Cagliari e Torino, stavi sopra la Roma, vero, quindi, sono quattro punti che fanno male, e quindi, pazienza, se non ci vai in Champions, grazie da Aurentis, che ti devo dire, e no, vabbè, ma l'Europa League, ci speri almeno quella, spero, allora, io ci posso, ho temo la conference, non riesco a tirare troppo, no, io voglio andare un'Europa League, o fuori dall'Europa, oh, sei come me, la conference, sei come me, non ti piace per niente, bravo, oh, ho un alleato, poi se ci vai, vabbè, se ci vai, proprio a vincere, sì, sì, quello è palese, quello è palese, sì, sono d'accordo con te, però la cosa brutta è che, ok, ma in Europa League, ma in Napoli ci punta, cioè, che De Laurentiis, tratta queste coppe, conference, Europa League, Supercoppe, Coppa Italia, Coppe inutili, perché? Perché danno pochi soldi, quindi questa è la mia paura, che non ci puntiamo, poi dipende, però l'Europa League è l'ex Coppa UEFA, quindi per cui, non è che io sono vecchio, no, no, ma quest'anno, quest'anno, Champions e Europa League, fantastico, quest'anno a livello l'Europa League, allucinante ragazzi, sì, assolutamente, in conference sono rimaste, la Fiorentina e la Stoneville, vogliamo metterci anche in Lilla, va bene, basta, ma basta, fu così che vinse il Pau, che non so chi cazzo c'è con... No, poi dall'anno prossimo ci stanno manco più le decisioni, tra c'è l'Imbianzaroni che con... Quella era ora, perché dai, era un po' una schifezza, mi ricordo, la frase di Murigno con la Lazio, adesso quale fa che le ha finite? Che andava sempre giù. Peppe, io ti congedo e ti ringrazio davvero, come sempre sei stato veramente carino, simpatico e gentile, vinca il migliore, quindi speriamo noi, detto questo, vedremo di vederci, spero anche l'anno prossimo, magari se state, ci potrebbe scappare qualcosa insieme per il calciomercato, sarai sicuramente il benvenuto in caso, grazie ancora, mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al campione, mettete un piaccio, commentate e anche lui, non solo me, seguite tutti, io faccio così perché tutte le volte non si... Dopo l'editing non si capisce più dove vado a finire, ciao ragazzi, alla prossima, ciao, grazie, ciao, ciao Peppe, ciao, 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 ciao,